vedete come il punto di vista è diverso da sotto com'era imponente come costruzione invece da qua come tutto sommato dia l'idea di una casetta anche piuttosto unive è stata progettata da Ulisse Staccini che si occupava dell'architettura Liberty qui in Italia e quindi questo qui possiamo parlare proprio di Liberty italiano anziché di Jugendstil di cui parlavamo prima per quanto riguarda la fabbrica dei materiali che ho già parlato guardate quanto si gioca un po' con la simmetria nel senso che ci sono delle cose simmetriche ma ci sono dei giochi fatti con i disegni e con l'architettura che fanno un po' incuriosire lo spettatore già l'ingresso è laterale